In ordine a fianco a me l'avvocato Luigi Paganelli che è capolista del movimento Lombardia Civica A tutti e tre per iniziare chiederò una breve presentazione Non prima di aver presentato però quelli che sono i giornalisti in sala Che faranno poi le domande E sono per dovere di galanteria iniziamo dalla donna Quindi Laura Marinaro di Libero Quotidiano Tra l'altro mi permetto di segnalare l'uscita di un suo libro molto importante Come in questo periodo si sta facendo molto scalpore Il cui titolo è Il sistema corruzione Come rubano i nostri soldi e perché dobbiamo dire basta Scritto con Piero Decaterina Quindi è un libro sicuramente scomodo e sicuramente importante E sicuramente da leggere tutti A fianco a lei troviamo il direttore di Monzoggi Paolo Mariani E dalla parte alla sua sinistra troviamo già Franco Beretta Direttore generale di Uglianza Salve A voi tre chiederò di fare delle domande Di cercare di mettere un po' in difficoltà I nostri candidati domande non sempre facili Dunque iniziamo con il primo giro di presentazioni ufficiali Buongiorno io mi chiamo Roberto Salis Io sono nato a Cagliari Mi sono trasferito a Milano nel 1980 Da affrontare il Politecnico Dove sono laureato nel 1984 Da lì poi ho sempre vissuto in Lombardia A parte una breve esperienza Quattro anni di esperienza in Inghilterra Un'azienda che mi ha trasferito in Inghilterra Sono sposato, ho tre figli Non ho mai fatto politica in vita mia Non c'è mai stato un momento A parte probabilmente in gioventù Al tempo del liceo Quando ho frequentato la gioventù liberale Ma veramente per brevissimo tempo Non ho mai fatto politica Perché tra l'altro una serie di problematiche A livello professionale Rendono in Italia abbastanza difficile Avere anche un ruolo politico Quando si hanno dei ruoli di leadership In aziende private Io ho lavorato per 26 anni In aziende private In gruppi multinazionali molto importanti Giugger, Bicicino Le Grande A Robert Bosch L'ultima posizione che ho ricoperto È l'amministratore delegato Di una divisione del gruppo Robert Bosch Che si occupa di termotecnica Da due anni circa Faccio il libero professionista Allora Molti miei amici mi dicono Ma cosa può prendere? Che botte in testa hai preso A 53 anni Per decidere di entrare in politica Io ho trovato una frase Molto interessante di Platone Vado un pochino più indietro Rispetto a Weber Platone diceva che La punizione più elevata Che ti spetta Per non aver partecipato alla politica È essere governato Io penso che la società civile A questo punto Abbia delegato in bianco Abbastanza alla politica È il momento Per cui la società civile Deba prendere in mano il pallino E debba utilizzare L'esperienza che ha maturato Nell'attività professionale Nell'attività di tutti i giorni Per guidare il paese Io Ho la fortuna di avere un figlio Che si è laureato Anche lui al Politecnico di Milano Ha 25 anni Rincontro di 26 È decisamente più bravo E più capace di me Professionalmente Ha ricevuto i voti più alti Avendo Vissuto 4 anni in Inghilterra Parla fluentemente inglese Cosa che io all'epoca Assolutamente non facevo Ma il disastro Della nostra società In questo momento È che Mentre io ebbi 10 proposti di lavoro All'epoca Mio figlio ne ha avute due E questo è una vergogna Questo è assolutamente Una vergogna Non per l'impatto personale Del mio figlio Ma perché Una società Non può evolvere In una direzione In cui pregiudica Il futuro Delle nuove generazioni Allora Buongiorno a tutti Quelli presenti A quelli Che ci guardano Che ci ascoltano Allora Massimo Castoldi Io Nasco ad Abbiategrasso Quindi bassa milanese Un bel po' di anni fa Nel 61 Quindi sono più vecchio Per venire Forse anche Sare Sare E arrivo in Brianza Arrivo a Monza Nel 2002 Faccio il direttore sanitario Degli istituti clinici Zucchi Di Monza E di Calatebrianza E collaboro con Alcune associazioni Una del territorio Abbastanza nota Con cancro primo aiuto E una invece che Eredito Mi portò nel cuore Da Milano Si chiama Bambita Di Palli Si non muore Quindi Un po' di passione Per Come dire Le necessità Del mondo civile Ce le ho E me le trascino Dall'infanzia Da Viategrasso Anche un po' di voglia politica Nel senso che A tempi Tanto tempo fa L'ho costituito Nel senso di civica Ma Con i tempi Sono passati Il lavoro Mi ha portato Un po' di giro E C'è stata La necessità Di Ristabilizzarmi In un luogo Abito A serenio Lavoro Abbianza Perché Credo Che per poter Trasferire Una propria passione E questa passione Per trasformarla In un progetto Ci sia bisogno Di stabilità Di solidità Di luoghi Non sono Assolutamente Un politico Di professione Mi piace Invece dire Che Mi piace Far politica Ognuno di noi Credo abbia il suo Demone ispiratore Perché questa cosa C'è la sua frase Storica A me piace Una frase Di Weber Del 19 Quindi Cent'anni fa Weber Dice che La passione È Berlus In termini Io so solo questo termine In tedesco Perché Il tedesco Non lo conosco Ma Berlus È una parola Che ha due Possibili traduzioni E le comprende Entrambe Quindi è per questo Non mi piace È Vivalente È Molt Mol 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 E vuol dire Professione E vuol dire Passione Allora per me La politica È entrambe le cose Deve avere Una profonda Passione Sottostante È quella Che spero di avere E deve essere Una professione Nel senso Che deve essere Fondata Su concretezza Razionalità Professionalità Capacità di trasformare Le idee In qualcosa di concreto Un progetto Qualche progetto Ce l'ho di io Qualcuno Un po' più di me Ne ha Maroni E perché Nella vista civica Maroni è presidente L'ultima cosa Che dico In questo primo intervento Perché Pur non avendo mai Appartenuto Alla Lega Mi è sembrato Che La Scelta Di Maroni Di agire Alicando Il suo partito La Lega E di Proporre Un rinnovamento Di questo partito E poi La sua candidatura Univoca E decisa Alla regione Lombardia Siano due motivi sufficienti Per far di lui Per me Ognuno Suoi motivi Per me Questi due motivi Fanno sufficientemente Decidere Che lui È il miglior candidato Possibile Per governare La regione Lombardia Altri Pensaranno Diversamente Per me Questa È una scelta Fondamentale Che i programmi Progetti Adopti Grazie Non so in che camera Devo guardare Ce ne sono tre Accese Quindi Questa Grazie Qua va bene Anche Anche Quella Va bene Vanno tutte bene In sostanza L'importante è Qual è il mio quarto Peggiore Il mio quarto Peggiore Non esiste Sono tutti buoni E quindi In questo momento Direi che Sono candidato Per Albertini Capolista In Monza Brianza Ho accettato La candidatura Perché Nella mia carriera Politica Ho sempre cercato Di elaborare La politica Come partecipazione Civile E in questo momento Mi è stata data La possibilità Di farlo In una lista Importante Dove Ci sono concrete Possibilità Di incidere Sul tessuto civile E Di rinnovare Il tessuto sociale Di questo paese Ho 48 anni Faccio l'avvocato Ho un paio di studi In Brianza Ci sono 12 persone Che Lavorano con me E tutto sommato Stanno bene Facciamo il possibile Per Lavorare Concretamente Serenamente Nel mondo Della giustizia Che è un mondo Difficile In questo momento Ho una famiglia Con tre figli E anche una moglie Che ogni tanto Mi dimentico Di citare Ma poverina È quella che Sopporta il peggio Di quello che sto facendo In questa campagna elettorale Amo tendenzialmente È stata loro Trasmessa Dai loro genitori È stata noi Trasmessa Dai nostri genitori Ed era un'energia Per cui noi guardavamo All'Europa Come una patria Laddove oggi Qualcuno Pensa di poter dire Che l'Europa È una specie Di Zavorra Invece Per noi L'Europa È la patria Però Quando noi Guardavamo L'Europa Come una patria Sapevamo Che stavamo Guardando Oltre i nostri confini E questa Voglia di guardare Oltre i nostri confini È quella che Oggi Deve portare I nostri figli I ragazzi di 30 anni Quelli che hanno Voglia di fare Che non pensano Che esista Un sacrificio Bastanza grande Per realizzare I sogni Ecco Per loro Quella che per me Era l'Europa 25 anni fa Per loro è il mondo Allora per noi oggi Il mondo È davvero La grande chance La speranza Allora io sono qua Soprattutto perché Questi pensieri Questi sogni Devono essere Testimoniati Devono trovare Uno spazio Di manovra E credo che All'interno della lista Di Albertini Per la Repubblica Per la regione Lombardina Ci siano Grandi spazi Per realizzare Non solo I sogni Ma soprattutto Le premesse Del sogno Cioè per mettere giù Quelle che sono Le basi Di lavoro Che dobbiamo recuperare Che sono L'impresa 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 Vituperata Dalla nostra Costituzione Ma soprattutto L'impresa Come luogo Dove c'è La massima creatività Chiudo Non è che Non è che Il piccolo Comizio L'impresa La famiglia Come luogo Di educazione Ma soprattutto La scuola Come luogo Di formazione Insieme All'impresa Queste sono le cose Che mi hanno spinto A candidarmi Sembra Un po' Disorganica Come dinamica Però Io sono convinto Che Man mano Che andremo avanti Alcune cose Avremo modo Di raccontarcele Che prenderanno corpo Che prenderanno corpo